In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, Giuseppe puoi aggiornare i nostri telespettatori sulle condizioni attuali del tempo. In queste ore la nostra regione è interessata molto marginalmente dal passaggio di un vortice depressionario che dalla Sardegna si porterà sul Nord Africa entro la giornata di sabato. Depressione che dopo aver determinato un'intensa fase di maltempo sulle regioni settentrionali con biogge continue ed abbondanti metterà nel corso delle prossime 24 ore a dura prova la Sicilia centro-orientale e la Calabria meridionale dove sono attese intense precipitazioni con possibili nubi fragi. Al suo seguito è previsto il rinforzo dell'alta pressione con il ripristino di condizioni di tempo stabile. Come si svilupperà invece il tempo nel prossimo fine settimana? Per sabato 26 ottobre avremo cielo generalmente poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in lieve diminuzione ma con valori ancora superiori alla media del periodo, venti debole e moderati da est e mare poco mosso, localmente mosso a largo. Domenica 27 ottobre condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, a parte la formazione di dense foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure vallate interne, temperature senza variazioni di rilievo con massime di qualche grado superiori ai 25 gradi centigradi, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo. E per la tendenza della prossima settimana cosa puoi dirci? Sì, bel tempo con temperature miti anche nei primi due giorni della prossima settimana, grazie alla persistenza di un campo di alta pressione di natura oceanica. Un possibile cambiamento potrebbe verificarsi tra mercoledì e giovedì per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa, ma al momento è prematuro parlarne. Invito pertanto i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it e, chi lo vorrà, potrà scaricare l'applicazione per smartphone.